Salve amici, ben ritrovati. Vorrei farvi vedere due ottimi affari che si possono fare al supermercato Audi dal 2 giugno. Il primo è l'idropulitrice a batteria da 20 volt, Ferrex, che viene venduta dal 2 giugno a 35 euro invece che 60, se preferite 34,99 invece che 59,99, ma io preferisco approssimare alla cifra giusta intera perché questi dei 34,99, 59,99 sono trucchi per fregare noi consumatori, quindi 35 euro invece che 60, uno sconto del 42%. Questa idropulitrice viene fornita senza batteria e senza carica batteria, però dovrebbe essere, io la comprerò il 2 giugno, compatibile con le batterie parassate. Riesce a sviluppare una pressione massima di 22 bar e a emettere l'acqua a 160 litri all'ora. Come vedete è molto poco ingombrante, molto meno ingombrante di una idropulitrice elettrica e viene fornita con la spazzola e il tubo flessibile. Secondo me è molto conveniente, poi ovviamente decidete voi, ci mancherebbe altro. Altra cosa disponibile già da oggi è questo Tosaerba a batteria a 80 euro invece che 100 euro. Sul vantino troverete 79,99 invece che 99,99. Ha uno sconto del 20%. È vero che se aspettate un po' di tempo magari potreste comprarlo anche col 40% di sconto, però immagino che un articolo del genere lo sconteranno più del 20% soltanto a fine stagione, perché serve in primavera e in estate. È molto comodo, ha come potete vedere anche il pulsante di sicura in modo da evitare partenze occidentali, perché ricordiamoci che gli utensili a batterie sono molto comodi, però a differenza di quegli elettrici che quando stacco la presa io sono al sicuro, quindi in teoria posso andare anche intorno alle lame, questi dovrei staccare la batteria. Io infatti consiglio sempre di staccare la batteria prima di andare intorno alle lame. Ha un diametro di taglio di 34 centimetri e si può regolare l'altezza di taglio, non è per uso professionale ovviamente, però si possono tagliare prati fino a 200 metri quadrati, quindi il normale giardino che si può avere una villetta schiera o anche una villetta. Ripeto, togliere la batteria prima di andare intorno alla lama se vi si inceppa. Qui dice che va bene la batteria da 20 volte, io la proverò con quella prima di comprare quella da 40 volte, però considerate che un tosaerba così grande, vedete viene fornito anche con la sacca, insomma ha bisogno di una certa potenza, quindi secondo me funziona meglio con la batteria da 40 volte. Va detto che ad Aldi queste cose ci sono sempre, per cui basta chiedere a un commesso che vi mette in contatto col magazziniere e quindi non è del tutto necessario bisogna andare sempre in certi giorni, certo se si vogliono utensili scontati bisogna andare nei giorni che ci dicono. Questo è tutto, io spero di avervi fatto un buon servizio.